Benvenuti a questa edizione in diretta dell'OISG in apertura, pazienti curati a pezzi, troppe visite specialistiche secondo la Società Italiana di Medicina Interna c'è un rischio di sprechi e danni per i pazienti pochi ricorsi alla figura dell'internista come medico della complessità vediamo i particolari nel nostro servizio Il paziente italiano medio viene visitato a pezzi con una serie di esami e controlli specialistici che spesso si rivelano non solo inutili ma anche dannosi l'allarme è della Società Italiana di Medicina Interna secondo la quale il problema è che si fa poco ricorso alla figura dell'internista che come medico della complessità sarebbe invece quello più adatto a visitare le multimalattie in Italia in media si fanno 64 milioni di visite specialistiche l'anno per circa un miliardo di spesa quasi la metà dei pazienti adulti soffre di almeno due malattie ha detto la Società e per questo andrebbe valutata in modo globale individuando la patologia principale e quelle accessorie per adottare un piano terapeutico efficace e adeguato sono invece appena 3,2 milioni le visite specialistiche che coinvolgono gli internisti italiani i medici della complessità mentre per ridurre i costi e migliorare l'assistenza le visite dovrebbero arrivare a circa 6 milioni troppe visite significano sprechi economici per il paese soprattutto si traducono in un livello di inappropriatezza clinica nella gestione dei pazienti ha spiegato Gino Corazza, presidente della Simi gli esempi sono molti in una città da 80 mila abitanti come Como si sono registrate nel 2013 ben 800 mila visite a Napoli sono oltre 250 mila ma si stima che almeno il 20% sia inutile secondo le stime sono oltre 8 milioni gli italiani con due o più malattie croniche anche se la maggioranza ha più di 55 anni e la vera epidemia riguarda gli over 65 la vera emergenza sono i giovani fra i 45 e i 65 anni in questa fascia d'età sono circa 2 milioni i pazienti con due o più malattie croniche mille casi di violenza ed aggressione ogni anno su medici e infermieri 8 operatori sanitari uccisi in circa 20 anni sono i numeri allarmanti della psichiatria italiana aggravati da Italia la sanità che minacciano sempre di più la tenuta delle strutture la denuncia arriva dalla società italiana di psichiatria la SIP che lancia anche l'allarme per l'uso di nuove droghe molto più potenti rispetto al passato aumentano le persone che le utilizzano e che sia pure impropriamente vengono assistite nei dipartimenti di salute mentale la SIP ha puntato i riflettori sulla solitudine degli operatori sanitari in questo campo in occasione della prima giornata nazionale su salute e sicurezza degli operatori in psichiatria oggi le strutture psichiatriche hanno in cura oltre 3,5 milioni di pazienti ma il problema sono le carenze di molti servizi sia di organico che di struttura e torniamo a parlare di ebola è già arrivata a quota 10.000 in appena 8 mesi il numero di casi di ebola una cifra molto superiore alle poche centinaia delle epidemie precedenti di pari passo con la diffusione del virus corre anche il panico e se da una parte il presidente degli USA Barack Obama ha invitata la calma ricordando che il virus si può sconfiggere dall'altro i governatori di New York, New Jersey e Illinois sono andati oltre le direttive degli esperti imponendo l'isolamento agli operatori sanitari che tornano dai paesi colpiti il conteggio ufficiale dell'OMS parla di 10.141 casi accertati con 4.922 deceduti tra questi anche la bambina di due anni morta la scorsa notte che ha portato il virus in mari dove sono scattate le procedure di emergenza rese difficili dal tragitto compiuto dalla piccola sono proprio gli operatori internazionali medici, infermieri ed esperti che prestano aiuto in Africa occidentale a destare più preoccupazioni in use soprattutto dopo il primo caso a New York quello di Craig Spencer medico appena tornato dalla Guinea ma il semplice fatto che una persona torni da un paese colpita sottolineata ad esempio Nicola Petrosillo che è direttore delle UOC infezioni sistemiche dello Spalanzani di Roma non è sufficiente a considerarla ad alto rischio bisogna distinguere se si abbassa il rischio basta evitare i luoghi affollati limitare un po' gli spostamenti ma la quarantena mi sembra eccessiva alla CAME è sottato anche in Italia il Ministro della Salute Beatrice Lorenzine che ha confermato che nel nostro paese ci sono al momento solo due persone in quarantena un medico e un infermiere che sono stati in Sierra Leone il taglio di 100 milioni previsto dalla legge di stabilità al Fondo per le Non Autosufficienze divide il governo e scatena le proteste delle associazioni in primis quella dei malati di SLA che dopo aver smosso l'Italia con la campagna delle secchiate di acqua gelata per promuovere la ricerca si trovano ora a fare i conti con Nuova Italia l'assistenza al Ministero dell'Economia che difende la linea sostenendo che 250 milioni previsti per il 2015 sono pochi ma stabili le associazioni rispondono sono comunque 100 in meno dello scorso anno il di Castero della Salute invece tiene il punto con il Ministro Beatrice Lorenzin che su Twitter promette il suo massimo impegno per integrare risorse già previste un annuncio che riscuota successo siamo felici dell'impegno e seguiremo con attenzione gli sviluppi e le decisioni del governo ha commentato Massimo Mauro che è Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale a Miotrofica e niente più folle di giovani scatenati in corsi collettivi nelle palestre di tutto il mondo che spalancano invece le porte ai clienti più maturi con più tempo libero ma soprattutto con il portafoglio pieno Zumba, Pilates e Spinning hanno fatto il loro tempo escono dalla top 10 delle tendenze fitness mondiali per il 2015 lo attesta una nuova ricerca sui trend del fitness mondiale per l'anno 2015 pubblicata dall'American College of Sport Medicine Journal e condotta dalla Georgia State University lo studio ha incluso un campione di 3400 istruttori e personal trainer delle principali città negli Stati Uniti Sud America, Europa e Asia vincono gli allenamenti senza pesi veloci, dimagranti e per i nuovi vecchi i figli dei baby boom attenti alla salute al primo posto della top c'è il nuovo Body Weight Training comparso solo due anni fa si tratta di esercizi di base che sfruttano il peso del corpo al posto dei pesi al secondo posto c'è la Intensity Interval Training cioè allenamenti rapidi da fare meno di 30 minuti tra le nuove tendenze in terza posizione compare la ricerca di istruttori certificato la crisi ha spinto troppi allenatori improvvisati a lavorare nelle palestre si legge nello studio c'è bisogno di personale qualificato al quarto posto si attesta allo straight training ovvero allenamenti con i pesi ma a misura di patologie metaboliche e cardiovascolari al quinto ha ricorso al personal training soprattutto per programmi di fitness e di stampo medico gli esercizi da fare insieme alle diete dimagranti per consumare più calorie sono in sesta posizione e regge molto lo yoga in tutte le sue declinazioni ma scivola però al settimo posto dopo i successi planetari degli scorsi anni che lo vedevano in cima alla top 10 e stamina resta sotto sequestro lo ha deciso il tribunale dell'esame a Torino che ha rispinto i ricorsi presentati a una decina di famiglie di piccoli pazienti ed è lo stesso Davide Vannoni il papà della terapia agli ospedali civili di Brescia dunque sigili alle cellule le apparecchiature non si dissolveranno proprio come aveva chiesto il PM Raffaele Guarinello che si era pronunciato per il no bene questa era l'ultima notizia in diretta di questa nostra edizione dello ISG l'appuntamento è domani ancora per una nuova edizione arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti